In Consiglio Comunale è stata presentata un'interpellanza dei gruppi consigliari di minoranza per Albino Progetto Civico, per Albino di Soffrazione e la Valle dell'Uio che appunto chiedeva informazioni sull'eventuale chiusura del CUP di Albino. Cosa ha risposto Sindaco? In Consiglio Comunale era presente anche Cesare Maffesi, il Presidente dell'Assemblea Sindaci dell'Ambito che ha lavorato molto insieme anche a tutti i sindaci dell'Assemblea e dell'Ambito per scongiurare la chiusura di questo servizio del CUP. Ha avuto diversi incontri con la dottoressa Azzi dell'Asle di Bergamo e anche con Amedeo, dottore Amedeo dell'azienda ospedaliere Bolognini di Seriate ed è riuscito ad ottenere che questo importante servizio non venga chiuso presso la sede dell'Asle di Albino. Tutti si sono dati un grande affare, ringrazio anche il Sindaco di Prada Lunga, Natalina Valoti che ci ha dato una mano a far sì che le istanze, le esigenze del territorio, parliamo quindi di Albino e di Prada Lunga perché sono questi due comuni che vertono su questo servizio, venissero ascoltate. L'Assemblea dei Sindaci formalizzerà un documento ufficiale in cui si confermerà il mantenimento del CUP presso l'Asle di Albino e soprattutto ufficializzerà, confermerà la necessità proprio che tale servizio rimanga sul territorio. In Consiglio Comunale sono state anche approvate le aliquote IMU e Tasi e il piano finanziario della tariffa rifiuti del 2015. Novità? No, novità non ce ne sono, nel senso che abbiamo mantenuto invariate le aliquote sia dell'IMU e della Tasi. Noi ci siamo sempre manifestati contrari a avere delle aliquote alte in merito a LIMU e alla Tasi. Il fatto di mantenerle inalterate riteniamo che sia già un grande risultato visto i tagli considerevoli che anche quest'anno subiamo dal trasferimento dal fondo di solidarietà. tagli veramente considerevoli, difficili da affrontare. Il mantenere inalterate le aliquote IMU e Tasi è già un bel risultato. Inaspettato, in sparato, però siamo riusciti a mantenerle appunto al livello che sono. Sulla tariffa rifiuti invece possiamo vantare una riduzione, anche se non consistente, ma c'è di qualche euro. E questo sicuramente è uno degli aspetti positivi di quanto siamo andati ad adottare ieri in Consiglio Comunale. Grazie al Sindaco Dottor Fabio Terzi, da Albino Lino, studio. Grazie.